Dunque vi ringrazio e ci facciamo anche gli auguri naturalmente essendo che siamo vicini alla fine dell'anno. Penso che sia un primato il fatto, e non è un primato che deriva da eventi piacevoli dal mio punto di vista, comunque un primato il fatto che il Presidente del Consiglio si presenti a questa conferenza stampa, che in un certo senso è una conferenza stampa di consuntivo a 15 giorni dalla sua nomina. Tuttavia credo che sia stato giusto mantenere questa consuetudine e utilizzarla per un confronto non solo di consuntivo, ma anche sulle cose che vogliamo e possiamo fare. Tra queste naturalmente c'è anche da parte mia la sensibilità ai temi di cui ha parlato Jacopino, non solo il tema dell'ordine dei giornalisti che tra l'altro è inserito nel provvedimento che il Consiglio dei Ministri ha appena varato nella proroga a termini, ma sui temi che sono stati sollevati, il tema del precariato. Io ho fatto il precario giornalista, ma in tempi diversi, in cui quando poi diventavi praticante, diventavi professionista, almeno teoricamente si dischiudeva un percorso professionale stabile, parlo di quasi 30 anni fa e oggi naturalmente il mondo è cambiato e sappiamo quanto la condizione sia più complicata. I problemi però restano quelli, personalmente sono sensibili al tema della diffamazione, ipersensibili al tema delle minacce nei confronti dell'informazione e affezionato al ruolo dei giornalisti, perché penso che si parla molto oggi, fa molto di moda parlare di postverità, nel mondo della postverità con tutti i suoi limiti, con tutte le angosce che provocano spesso a chi ha responsabilità pubbliche, però i mezzi di informazione seri, tradizionali, professionali ci impediscono l'assoefazione a questa postverità che a me ricorda un po' scenari orwelliani, più che scenari di grande sviluppo, modernizzazione etc. Quindi troverete su questo, come avete già fatto negli anni passati, ma forse dal punto di vista personale vi è più per l'esperienza che ho fatto nella mia vita, una sensibilità. Dicevo presente del Consiglio da 15 giorni, sono stati 15 giorni molto impegnativi, per me anche se posso dire entusiasmanti, nel senso che per chi fa il mio lavoro, in fondo servire le istituzioni con il livello massimo o tra i livelli massimi di responsabilità, oltre a essere una gran fatica, è ovviamente un fatto di grandissimo rilievo e appassionante. Il governo nasce, come sapete, all'indomani delle dimissioni di Matteo Renzi, provocate dalla sconfitta nel referendum. Quel risultato referendario non si cancella e certamente noi lo abbiamo ben presente, ma non deve cancellarsi neanche il lavoro che il governo guidato da Matteo Renzi, di cui ho fatto parte, ha svolto nei due o tre anni precedenti. Cancellarlo o relegarlo nell'oblio sarebbe, dal punto di vista nostro, politico e vostro dell'informazione, un errore. L'Italia ha qualcosa di cui essere fiera del lavoro che è stato fatto in questi anni, sconfitta o non sconfitta al referendum. Innanzitutto ha garantito un certo livello di sicurezza, anche in occasione appuntamenti molto complicati. Ricordiamoci la discussione che abbiamo avuto alla vigilia del giubileo, i controlli, Piazza San Pietro, l'attenzione internazionale, la rivista di Daesh di Daesh con la cupola in copertina, gli allarmi che ci sono stati, fortuna, certo la fortuna è fondamentale, però anche un grandissimo lavoro degli apparati, delle forze dell'ordine, dello Stato. L'Italia è riuscita anche a gestire, spesso circondata da una fragorosa solitudine europea, flussi migratori molto consistenti e l'ha fatto con equilibrio e con umanità, anche se la questione è apertissima e sarà cruciale anche per il governo nei prossimi mesi. L'economia è cresciuta, sia pure un tasso che tutti noi vorremmo più elevato, è cresciuto il lavoro stabile a tempo indeterminato, circa 700 mila nuovi posti di lavoro di cui due terzi a tempo indeterminato. In altri tempi sarebbe stato il compimento di grandi slogan, impegni, abbiamo, è un risultato. Ci soddisfa, non ci soddisfa perché soprattutto nella fascia sotto i 40 anni il lavoro da fare è ancora enorme. Abbiamo diminuito le tasse, recuperando l'evasione, non vi riempio di cifre, ma sapete, abbiamo messo in sicurezza il risparmio con il decreto adottato circa una settimana fa, il cosiddetto decreto salva risparmio, la cui attuazione sarà lunga e complicata, non è che noi ce lo nascondiamo, però intanto abbiamo preso una decisione, una decisione strategica e una decisione fondamentale. L'Italia ha più diritti e maggiore ascolto, ha avuto e adesso sarà una sfida per me è un compito non facile continuare ad averlo, ha avuto più ascolto a livello internazionale, indubbiamente. In questi momenti di rendiconto naturalmente non dobbiamo trascurare le difficoltà perché un grande Paese quando fa un rendiconto deve avere in mente, al di là delle cose fatte, buone o cattive che siano anche i livelli di sofferenza, di disagio che ci sono. Il primo è quello che deriva dal terremoto, il fatto che sia avvenuto anche purtroppo per scosse successive che hanno gradualmente allargato l'area non ci ha fatto rendere conto forse come comunità nazionale fino in fondo della gravità e dell'estensione che non ha precedenti, recenti del terremoto. Devo dire che però la reazione delle comunità locali, oltre che le reazioni di tutte le forze dell'ordine, del volontariato, è stata straordinaria, rapida. Adesso c'è la fase per certi versi più difficile e che deve coinvolgere situazioni differenti perché amatrice e amatrice come Accumuli, come Arquata, i Paesi delle distruzioni, delle vittime e poi c'è un enorme cratere che coinvolge centinaia di migliaia di italiani che oggi si pongono il problema della ricostruzione, del lavoro, dell'agibilità delle loro case. Sarà la nostra priorità. Così come in questi momenti non dobbiamo dimenticare le vittime che abbiamo avuto, ricordo da ultimo Fabrizia Di Lorenzo, ma attraverso di lei le tante vittime che abbiamo avuto attacchi terroristici, sequestri, forze dell'ordine colpite, disastri, incidenti ai quali un Paese civile non deve far mancare la memoria e ricordo naturalmente il disagio sociale che fa sentire perdenti ampi strati del ceto medio che sono in qualche modo, si sentono un po' assediati da una specie di vortice di velocità popolato da privilegi inaccettabili che rende una sensazione di sconfitta in alcuni di questi ceti che dobbiamo cercare di contrastare. Il Governo proseguirà sulla strada delle riforme, il messaggio è molto semplice, non abbiamo finito e soprattutto non abbiamo scherzato e tutti devono essere consapevoli che il percorso di riforme per il tempo che avremo a disposizione per lavorare andrà avanti. Ci sono capitoli da completare, altri su cui concentrare i nostri sforzi. Per me le parole chiave, l'ho già detto in Parlamento, sono il lavoro ai giovani e Sud, ma non perché poco si sia fatto, anzi sia sul lavoro che sul Sud il Governo fin qui ha moltiplicato i suoi sforzi, ma per la distanza tra questi sforzi, per quanto siano stati intensi e i risultati che dobbiamo raggiungere. Dobbiamo essere consapevoli che l'obiettivo del completamento delle riforme non è un puntiglio da parte mia, la rivendicazione di una continuità. È un'esigenza del Paese, perché il completamento delle riforme fa bene all'economia, fa bene alla crescita, fa bene alla semplicità del nostro Paese. Quindi è un lavoro che dobbiamo continuare a fare. So che la continuità nella squadra di Governo, oltre che nell'azione di Governo che abbiamo appena deciso per quanto riguarda il completamento della struttura ministeriale, è considerata da alcuni un limite. C'è sempre voglia di qualcosa di nuovo e di sorprendente, io lo capisco e accetto la critica, però rivendico questa continuità, la rivendico sul piano politico. Auspico piuttosto una discontinuità non sui sottosegretari, ma ad esempio sulla violenza inaudita che il confronto pubblico, in particolare in rete, ha avuto nel corso di questo 2016. E qui una discontinuità ci vorrebbe come? Auspico una discontinuità, se possibile, anche nella fecondità della dialettica parlamentare, che può crescere, può migliorare. E il Governo cercherà di dare un contributo anche sul tema della legge elettorale. Abbiamo ripetuto spesso che il Governo cercherà, come si dice in gergo, di facilitare, di accompagnare la discussione tra i partiti e il Parlamento sulla legge elettorale. Aggiungo anche sollecitandola, perché la sollecitudine in questa discussione non è correlata alla maggiore o minore durata del Governo, è un'esigenza del nostro sistema. Cioè il sistema democratico deve avere delle norme elettorali armoniose tra Camera e Senato in grado di funzionare. Poi la durata del Governo viene decisa dal Parlamento, dalle maggioranze e tutti sappiamo come funziona la nostra Costituzione. Ma avere con sollecitudine un meccanismo di regole elettorali non è un interesse di chi vuole accorciare o allungare la legislatura, è un interesse delle nostre istituzioni. E per questo il Governo accompagnerà sollecitando, se volete, questo percorso, perché lo riteniamo importante. Da ultimo l'anno che sta arrivando sarà un anno importante e impegnativo per l'Italia a livello internazionale. Da domenica, immagino da lunedì, l'Italia entra nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, assume la presidenza di turno del G7. A marzo avremo a Roma la celebrazione del sessantesimo dei trattati di Roma, quelli che hanno dato vita all'Unione Europea. Che Italia sarà questa proiettata in questi impegni internazionali rilevanti. Sarà per certi versi l'Italia che conosciamo. Io nel lavoro che ho fatto precedentemente ho ripetuto spesso che noi non abbiamo molti pulpiti in giro che ci possano fare prediche, almeno dal dopoguerra oggi, circa la coerenza della nostra politica estera. prima forse qualche discorso diverso si può fare, ma lo lasciamo agli storici. Ma negli ultimi 60-70 anni, tra i grandi Paesi europei, se c'è un Paese che ha avuto chiari i binari dell'europeismo e dell'alleanza atlantica, questo Paese è l'Italia. E accettiamo paragoni con chiunque da questo punto di vista. Quindi sarà questa l'Italia che si presenterà, cercando tuttavia al tempo stesso di usare la presidenza del G7 per almeno due obiettivi. Primo la centralità del Mediterraneo. Il mare Nostrum non può diventare mare Nullius, cioè il mare di nessuno. Nessuno se ne occupa. Il luogo della riluttanza dell'Occidente. Non ce lo possiamo permettere. E secondo cercare di usare la presidenza del G7 per contribuire a relazioni diverse con la Russia. L'Italia può svolgere un ruolo da questo punto di vista. non si tratta di rinunciare ai principi, si tratta di togliere, se ci sono, idee di ritorno a logiche, a cornici ideologiche tipiche della guerra fredda che non hanno nessun senso nella situazione attuale. In conclusione, il Governo, l'unica cosa che posso dire, nell'anno che verrà, farà del suo meglio. Si dedicherà esclusivamente, come ovvio, ai problemi del Paese, cercando di risolverli, di migliorare la situazione. Lo farà diffondendo, se possibile, sicurezza contro la paura, perché gli italiani devono sapere che lo Stato c'è, che le istituzioni funzionano, che il Presidente Mattarella ne è il massimo garante. Lo farà proseguendo e completando le riforme che sono avviate. Lo farà lavorando, se possibile, per ricuscire le tante lacerazioni che minacciano il nostro tessuto sociale e la sua storica coesione, sapendo che la coesione non è un valore ideologico. La coesione che caratterizza da sempre il nostro tessuto sociale, nonostante tutto, è la premessa per quegli elementi di fiducia e di sicurezza che sono indispensabili al progresso di un grande Paese. Quindi ricucire il tessuto della coesione è uno dei compiti più affascinanti e più importanti che un Governo si può porre. Grazie.